Mancanza di trasparenza e partecipazione nelle scelte infrastrutturali dell'amministrazione comunale e della regione nel cratere. E questa è la denuncia che fa il Movimento 5 Stelle dell'Aquila. I grillini si riferiscono in particolare a opere strategiche come la variante Sud, la razionalizzazione e velocizzazione della ferrovia, la pista ciclabile lungo Laterno, nonché il recupero delle mura del centro storico. Si tratta di temi di grande rilevanza che avrebbero meritato una riflessione organica, dicono. Si è di fatto invece delineato un piano strutturale per il cratere all'insaputa dei comuni ma anche della popolazione, pretendendo di passare alla fase esecutiva con procedure di dubbia democrazia e legittimità. Le opere che, come vedete qui, che sono state messe in esposizione, sono previste per il nostro territorio, previste in modo disorganico, neppure collegate tra loro e con un'assenza assoluta di confronto con la cittadinanza. Cioè stiamo continuando ad agire sulla linea renziana dell'imposizione di opere senza confronto e senza ascolto di quello che è al territorio. Noi richiediamo all'amministrazione regionale e a quella comunale di aprire un dibattito serio su questi temi. Qui alla regione, al megaparcheggio, all'ex psichiatrico, che sono tre punti direzionali, questa è la zona più vicina dove passa sia la ferrovia che la pista ciclabile e non c'è un'opportunità di accesso immediata nei confronti di quelle strutture portanti. Quindi è un errore madornale. Mentre c'è questo megaponte, che è pure un'altra opera terrificante, e le ferrovie dello Stato invece individuano degli attraversamenti molto più modesti, molto più opportuni e ordinari, proprio sul rettilineo di bagno. Qui a Molino, sempre alla zona di Martini, con un ponte di attraversamenti, addirittura qui alle 99 cannelle, come vedete, c'è un tracciato di tutta alternativa al megaponte.